L'intervento di Biden è stato un intervento molto importante, nel senso che ha veramente portato aria nuova, fresca, nel rapporto tra Stati Uniti e Unione Europea. Biden ha riaffermato che il pilastro della politica estera americana è l'Unione Europea. Un tempo si diceva che gli Stati Uniti guardano a Est, guardano all'Asia e erano in una posizione equidistante in quegli anni. Oggi no, oggi c'è solo un alleato fondamentale ed è l'Unione Europea. L'amministrazione precedente, in tema di tassazione delle multinazionali digitali, aveva posto una posizione di totale chiusura. Questo è un problema che si può affrontare solo insieme agli Stati Uniti. E invece l'amministrazione americana questa volta ha aperto alla possibilità di un accordo internazionale che permetta la tassazione delle società digitali. Questo ovviamente è un grosso cambiamento.